Stefano, buongiorno! Buongiorno Andrea, quest'oggi la domanda cambia ma solo leggermente, qual è l'ultima pillola che ci somministri per la season 1? Caro Stefano, allora, la pillola è Love 146, ovvero Amore 146. Siccome tu sei esperto, romanticone, quindi saprai tutti i significati della parola Amore, ti chiederai perché 146? Infatti me lo stavo proprio chiedendo. Caro mio, Love 146 è un'organizzazione internazionale non governativa, una ONG. Per capire il perché si chiama così, dobbiamo andare alla storia di questa ONG, del come è nata. Siamo nel 2002, dove i co-founders, ancora prima di fondare questa ONG, fanno un viaggio nel sud-est asiatico, perché animati dalla voglia di lottare contro l'avuso e il traffico di minori. I co-founders si chiamano Rob Morris, Lamont Hibert, Desirea Rogers e Carolina Hamm. Vengono colpiti e sono sconvolti da quello che vedono laggiù. Viaggiano con degli investigatori e sotto copertura finiscono in un bordello. Dentro questo bordello ci sono delle ragazze minorenni, perché è bambine, dietro ad un vetro, ciascuna delle quali con un numero attaccato su un vestitino e tutte stanno guardando un cartone animato. A parte una, la numero 146, ed ecco che ritorna il 146 del nome dell'organizzazione. Questa bambina stava guardando attraverso il vetro, verso le persone che teoricamente avrebbero dovuto sceglierla per abusare di lei, e lo sguardo di questa bambina coglie nel segno dei nostri co-founders di Love 146, i quali dicono che era uno sguardo scioccante, penetrante. Nei suoi occhi, a differenza delle altre bambine, c'era ancora vita, c'era ancora voglia di combattere. Dall'in poi, nel 2004, nasce Love 146, che inizialmente si chiama con un nome diverso ma che poi cambia in questo nome attuale nel 2007, ed è appunto un'organizzazione non governativa che si occupa di prevenire il traffico e l'abuso dei bambini e inoltre di offrire delle cure e di educare i sopravvissuti a queste tratte e di potenziare il movimento di crescita e di fare, come dire, awareness, di crescere la consapevolezza nel mondo. Qualche attività che svolgono, hanno delle abitazioni e offrono un'assistenza specializzata per questi bambini, collaborano con le autorità locali, hanno anche una rete di assistenti sociali e si propongono anche di fare valutazioni specialistiche per i tribunali e di fornire formazione specializzata appunto per la prevenzione in contesti difficili anche del traffico e dell'abuso dei minori. Per dare anche un riscontro pratico e numerico, lascerei anche la parola adesso al mio socio Stefano e aprirei la consueta rubrica I numeri parlano di Stefano Lepre. Prego Stefano! Eccomi! No, aggiungiamo che Love 146 è presente in quattro continenti, assiste più di 3.300 bambini e giovani dai 2 ai 24 anni, si avvale di una rete di 13.600 professionisti e dal report finanziario 2019 emerge che sono stati investiti 406.297 sterline, ovvero l'equivalente di 448.755 euro. Noi Stefano, questa pillola non è farina del mio sacco come tu ben sai, ma ci è stata proposta da un nostro ascoltatore assiduo, ovvero Matteo, un ciclista che si è prestato come ballerino e tu ci chiederai, adesso ci dirai perché si è prestato come ballerino a sostegno di questa organizzazione. Sì, ringraziamo Matteo per... e c'è una pillola nella pillola perché Matteo ci ha segnalato un'interessante e significativa iniziativa ovvero la Dancing End in End che come funziona? Si appoggia sulla piattaforma di crowdfunding gofundme.org e dal primo di novembre si può eseguire un passo di danza sulla musica appunto che viene indicata e procedere a una nomination di altre persone e poi donare e i proventi verranno donati allo 146. Si tratta di una Ice Bucket Challenge rivisitata. Non c'è qui la secchiata d'acqua gelata, bensì un passo di danza. Dunque, grazie Matteo, grazie Stefano per la nostra... Grazie soprattutto ad Andrea per l'approfondimento di oggi. Sì, nella nostra puntata di oggi noi attendiamo trepidanti l'ultimo MVP della Season 1 che avverrà venerdì, ricordiamo che siamo in chiusura di Season 1 abbiamo ancora due puntate dopo questa di oggi l'MVP di venerdì e la puntatona, l'ultima puntatona di lunedì ripartiremo con la Season 2 il primo febbraio 2021 quindi abbiamo un po' di tempo per ragionare e per mettere in cantiere nuove puntate se volete potete partecipare alla sigla e al pezzatino finale di ogni puntata mandandosi delle audio vocali che poi mixeremo insieme dove esprimete la vostra considerazione circa il podcast ed ue o potete fare delle battute spirituose eccetera eccetera a riguardo del podcast. Sono sempre valide anche le nostre esortazioni di venirci a trovare sul sito web o sui nostri vari canali social che potete trovare in bio Stefano ti ringrazio e ti saluto caldamente Un caloroso abbraccio a distanza a te Andrea, a venerdì Ciao